C'è un video, una clip del tizio che ti ha donato, penso ci sia una clip Ora sono in solo, faccio qualche game in solo Baby E Sasuke mi piace un botto Lo sfondo il mio pc è di Firewatch, un gioco bellissimo Che mi ha accompagnato quando ero malato di mononucleosi Non è vero, l'ho finito in 6 ore Un elgato per simario o registrare, dipende su dove giochi Bomba in buca boys C'era la cassa sopra E si che c'era Si ho avuto una mononucleosi, però non so nemmeno io come mi è venuta Perché non ho fatto niente Avevo preso freddissimo Mi ricordo quella volta e boh mi è venuta Ah Devo essere sincero, mi piace tanto giocare in singolo ogni tanto È bello pure fare le squadre ovviamente, però in singolo posso parlare, esprimermi, fare giocate esagerate Eppure perderle perché tanto come sapete non mi frega un cazzo E qui su Twitch posso avere un collegamento diretto Twitch è più funzionale Twitch paga meglio Twitch non è vero, non paga meglio se non ha tante views Su Youtube E oltre a questo la gente è più matura qui su Twitch E per esempio la cosa di fare le stream per chiedere donazioni non mi piace E fortunatamente c'è la sub che la sub è un modo di supportare Che la gente può decidere di farla o non farla E addirittura la puoi fare anche gratuita se hai Amazon Prime o Twitch Prime Solo headshot b***h Quanto poco stai dando un buon PC da gaming decente Guarda, ora come ora non ho la più palida idea Davvero, non me ne intendo di queste cose E poi ogni game è diverso Perché DPG 333? Perché significa Dark Power Gang 333 E perché è una presa per il culo, un'ironia su me stesso Anche se io non ascolto la DPG È una presa in giro su me stesso Ah, l'ho visto È una presa in giro su me stesso L'ho visto Dove cazzo è il lanciacranante dorato? What? Ma il lanciacranante dorato? È caduto qui giù? What? Ah eccolo Perché non ti riesci a deluxe? Ragazzi ma uno magari a volte vuole giocare solo Magari vuole fare duo Magari vuole giocare spot con altre persone Regà non è che uno deve per forza giocare con un'altra persona E uno si deve imbucare Uno gioia quando ha piacere di farlo Cazzo regà Grazie mille Già balabala per la sub Benvenuto a dpg333 E ne sghere bro Ora anche tu mi devi dire perché hai fatto la sub Oh no 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 Magari ragazzi Ho fatto subscribe perché noto Intela passione che manca Veramente tante persone in ciò che fanno La stessa passione che sto mantenendo il mio percorso E mi sta portando a diventare Tenente nella musica militare E dell'esercizio svizzero Wow porco 2 In che ci avessi io le cose per fare Cioè ci avessi io le palle per fare una cosa del genere Sei un grande grazie bro Magari è perché ora non sono ancora stufo Perché sto raggiungendo Traguardi su traguardi senza fermarmi Magari è quello ora Magari è quello bro Il motivo per cui sono sempre positivo Sempre on fire Sempre stra Gucci boy Poi vabbè si vedrà pure con l'andare avanti Con il futuro perché per ora Stiamo solamente andando avanti E non ci sono periodi di calo Ma arriveranno i periodi di calo Penso sia una cosa Penso sia una cosa abbastanza normale Che arriveranno per tutti Quei periodi di calo O magari che uno si stufa Si annoia Ma io lo sapete quando mi vedete Che sono stufo Quando un gioco non mi piace più Non mi sto divertendo Quando cambierò magari gioco Perché magari un giorno capiterà ragazzi Che Fortnite mi stuferà È normale Può succedere È una cosa normale per tutti Che un gioco ti stufi E io specialmente Non voglio che La mia faccia La mia persona Venga accumunata a un solo gioco Io sono Power Sono Giorgio Sono un videogiocatore Amo giocare ai videogiochi Mi piacciono i videogiochi Ma io gioco a tutto ciò che mi piace Cioè capito Faccio ciò che mi piace Io non sono qua Perché devo giocare a un gioco Perché fa tendenza Robare Sto giocando Anzi io prima di venire su Fortnite Nonostante stava spaccando di numeri Io giocavo a PUBG Perché? Perché mi divertiva Perché avevo scoperto I Battle Royale Non per altre motivazioni Strane o astruse Ma proprio perché Il gioco mi piaceva Quando mi sono stufato Ho cominciato a cercare altri giochi E ho trovato In questo caso Fortnite Ma capiterà che in un futuro Magari Fortnite mi stuferà Ragazzi Ecco 2 Mi ero sbagliato Mi ero sbagliato Bella Ora vi rispondo a tutti Per le sub Però cioè Io ci tengo che voi Capiate questa cosa Di me Oppure mi ha sparato Con un cecchino Per le sub Robi! Ora vi rispondo a tutti per le sub Scusatemi ragazzi Sto facendo veramente un bel game Questo Un ricco E supposissimo game Madre Un'altra volta Sala Un'altra Un'altra Ok l'abbiamo visto Vedo che è l'ultimo Eh bravo Sai costruire ma non basta E' finito Ok Olle Bella vittoria Let's get it E' finito